La caccia ai biglietti Facile per Danny truccarsi, in un attimo si ripassa la parte, nel ridotto sua moglie viene presentata irreali. Anche l'occhio dei riflettori è curioso dello spettacolo. Vedrà avanzare il primo dono per il neonato principe Filippo. Vedrà Danny moltiplicare le sue risorse, fare scaturire dalle danze, dal falsetto, dal trepestio, una inedita e irresistibile comicità. Ed eccolo a Roma, colui che è chiamato per Antonomasia la meraviglia di Brooklyn. L'hanno portato al Colosseo. Sta descrivendo come l'ha imparato dai libri un combattimento di gladiatori. Parla sul serio stavolta. Sulla natura del comico se ne scritte tante da Bergson a Freud, ma rimane un mistero. Se fosse ancora qui Pirandello direbbe, quest'oggi si recita soggetto. Sulla natura del comico si recita soggetto.